musica ecco che anche dopo la spesso di Sara Giulia è pronto a costruire la partita GOL! GOL! con la posizione satura fiasciata, scusate la data di Pateretta per il dolce di Marconicella allora ci siamo ancora ancora e quattro giocatori Roma, palo clamoroso palo clamoroso del giocatore della Roma si riparte con il Napoli la Juventus niente da fare la squadra il Napoli gioca con un 5-4-3-2-1 la Juventus la Juventus peccato 0-2 che ti chiama da fuori Milano schema tattico della Juventus 8-9-9 la Juventus vada per la piccola la Juventus vedete lo pisso guadagna della Roma questa volta è la Roma ecco ...... Grazie. 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 Bravi ragazzi, ce la possiamo fare! Bravi, fatevi un applauso che ve lo meritate! 4, 5, adesso... 6 auto su 2 luoghi! Suuuu! Posso prendere le nostre damanti, di loro cosa arriveranno? Ultimi, ma che brutti eh! Quarto di bravo, nuova disposizione! Si, si blocca il peccino! Hai fatto bene, anche perché così... Vai, gira, 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 gira! Non gira, non gira! No, però anche la macchina gialla, la macchina con poche mio! Occhio al cae! Vieni giù di lì che quest'anno non è pericoloso! Si integra! Guarda! Un buon salto dentro anch'io, guarda! Vieni giù! Occhio nel pericoloso! E... Incredibile! Sono bravi, sono bravi! No, no, no! Ogni dia un'inche e dentro il posto diventano qualcosa per solo nella situazione... E... ...it'o nel massimo... ああ! Un massimo! Un massimo! No, ma anche io! Un massimo! E... Un massimo! Un massimo! Un massimo! Sì, formidabile, soprattutto unico al mondo, fate bene ad міzionati i piedi, i piedi, i piedi, i piedi.